Riva Destra Trani proseguendo nel percorso di organizzazione e strutturazione del partito annuncia la costituzione del direttivo cittadino. Francesco Rossi. Riva Destra continua la sua opera di radicamento nel territorio con un nuovo direttivo. Sì, siamo riusciti nell'impresa di formare un direttivo in un momento storico contraddistinto dalla disaffezione dalla politica, dall'allontanamento della gente dalla politica. E quindi siamo riusciti a coinvolgere un gruppo di persone animate dalla voglia di lavorare per il nostro territorio, per la nostra città. Naturalmente ognuno di noi darà il suo apporto, il suo contributo per far sì che questo gruppo non rimanga fino a se stesso ma riesca a produrre qualcosa di positivo per la nostra città. Quali sono gli obiettivi principali che volete raggiungere? Innanzitutto è risvegliare l'animo politico nella gente perché siamo, come detto prima, in un momento nel quale si pensa più a fare gossip politico più che pensare ai reali problemi, alla risoluzione dei problemi che riguardano la città e cercare il più possibile di aggregare la gente, di portarla e di farla venire alle nostre riunioni, di aprire il tavolo alle associazioni di categorie, per portare tra un anno, tra due anni, un qualcosa di concreto che possa tranquillamente far parte di un programma, di un progetto politico per il futuro. Quanti siete al momento? In questo momento il direttivo è composto da dodici persone. Ognuno ha una delega nel settore di competenza. Naturalmente le nostre riunioni sono aperte a tutti quanti, quindi comunque renderemo pubblico qualsiasi nostro passo, qualsiasi passaggio. La prima iniziativa è quella di invitare le forze politiche di centrodestra, perché comunque il nostro orientamento è chiaro anche dal nostro nome, e di invitarle per vedere se ci sono i presupposi per costruire qualcosa di buono già da ora. L'obiettivo sarebbe anche quello di aprire il tutto alla cittadinanza, per far sì che le persone possano porre domande ai diretti interessati, per capire prima a cosa vanno incontro in futuro, per evitare le situazioni che sono sotto gli occhi oggi.